ieri mentre facevo il video sul centrocampista ex gremio mi sono anche scordato che comunque la trattativa comunque anche per le difensore sempre del gremio perché il sassuolo ha fatto un doppio colpo del del gremio che da quello che so dovrebbe essere tipo ritorcesso forse nel ritorcesso poco poco ci manca comunque visto che non ho parlato ieri e che mi sono scordato di parlare ieri chiedo scusa eccetera ne parlo in questo video nuovo parliamo di ruan l'altro di sola come si chiama forse me lo chiamiamo ruan è un classe 99 e anche lui come come il suo compagno di squadra che abbiamo parlato ieri è stato nella nazionale brasiliana quindi anche lui se si era già concluso da tempo ecco questo colpo senza che non ho potuto venire per fare le le varie bisnematiche eccetera perché come il suo compagno era comunque alle olimpiade quindi non poteva quindi poi è venuto quando quando è venuto compagnano ha fatto praticamente tutto insieme con un'unica differenza che lui comunque arriverà a gennaio perché lui vuole finire comunque il campionato in brasile che sappiamo che che un brasile sono diciamo dei campionati un pochettino strani roba così che finiscono ottobre non avremo quello che sono e quindi poi lui questo difensore che dovrà comunque sostituire marlon lo avremo solo da quando incominterà il primo il calciomercato invernale quindi dopo la la si vedrà effettivamente dove siamo in classifica severamente fino a quel momento ci mancava un difensore oppure no magari magari in questo periodo di tempo ne abbiamo scoperto un altro magari nel giovanile roba così che che sta esplodendo dopo verrà a fare solo tanta panchina eccetera quindi è per questo che sinceramente a me queste trattative così che si chiudono oggi però il giocatore arrivo domani non è che mi piace tantissimo però alla fine vedremo comunque se veramente ci servirà questo diciamo nuovo marlon visto che marlon comunque anche lui è un brasiliano robocosì sappiamo chi è da qua su questo canale da un po di tempo sa benissimo che non è mai comunque convinto al 100 per cento con giocatore vedremo comunque se saprà dare di più o di meno di marlon perché se se comunque enrique la ancora non ci sa se veramente il vice di locatelli o no però diciamo questo su ruan sappiamo benissimo che che sta arrivando arriverà il gennaio perché comunque abbiamo venduto marlon se avremo se non avremo venduto marlon molto facilmente questo giocatore non sarebbe venuto a sassuolo quindi vedrà alla fine vedremo questo se vedremo se veramente ci servirà e comunque quali impatto saprà dare a questa squadra perché perché voi capite che anche se arriva il primo di gennaio robocosì fa tutte le varie cose è un attimino più difficile comunque ambientarsi a me secondo me più difficile ambientarsi in una scuola una squadra che già praticamente ha fatto metà campionato è tutto ruotato eccetera quindi vedremo secondo me comunque sarà più facile che se ambienti enrique che che lui ma magari mi sbaglio io spero comunque sbagliarmi che tutte e due comunque trovano al più in fretta possibile la quadra di questa società che ci fanno fare un ulteriore salto di qualità che noi comunque un pochettino un pochettino ce l'aspettiamo quindi alla fine vedremo vedremo quello che saprà dare quello che darà quello che comunque un pochettino marlon e store one non saranno sicuramente uguali quindi vediamo quello che saprà dare comunque voi comunque nei commenti scrivetemi se a voi vi piace questo giocatore e secondo voi cosa saprà dare a questo nuovo sassuolo se sarà un salto di qualità oltre io come come già detto nel suo per il suo compagno non posso dare giudizi perché comunque oltre che vedere due video di qua di là su internet troppo così non so niente quindi prima di giudicare lo vorrei vedere in campo con la maglia nero verde addosso perché poi comunque sono due campionati completamente diversi sia con il brasiliano che con l'italiano basta pensare che con il brasiliano praticamente giocano quando per quando noi praticamente non gioca nessuno quindi alla fine vedremo vedremo come si adattano questi due giocatori vedremo quello che sapranno dare questi due uomini perché prima di tutto sono uomini quindi alla fine vedremo poi una cosa che ho scoperto ieri che quando quando ho letto la notizia del doppio colpo robocuse ho anche letto che comunque il gremio al 10 per cento della futura rivendita che farà l'essa solo su questo tuo giocatore quindi bisogna anche sempre stare all'occhio acqua se li vogliamo vendere a quante li vendiamo anche per questo motivo qua detto questo come già detto ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di almeno questo giocatore e cosa saprà dare in più in confronto a marlon e niente dopo detto questo ci vediamo al prossimo video forza forza Italia e ciao ciao